Wahey, ben ritrovati dall'Andrea di Cremantoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni Oggi inizia il nuovo evento e è un evento a tema Yo-Kai Watch Gakuen Wai Ma... è un evento fionda e quindi farmare qui è terribile Stavo sperando di un evento scramble o... insomma un evento un pochino dove è più facile farmare Ovvero l'evento classico dove appunto cadono i forzieri dentro le sfere, tu li rompi e appunto puoi prendere i punti Purtroppo non sarà così Abbiamo il... ah siamo nell'area campeggio di Yo-Kai Watch Gakuen ovviamente Wai Wai La Wai Wai Camp Area Ok poi andremo a vedere anche qui insomma prima un attimino voglio aggiustarmi bene Per capire di preciso che cosa stiamo andando ad affrontare E velocemente vedo le missioni Ecco ovviamente vabbè prendi le stelle come sempre Ok si poi fare le combo Vi dice anche il nome dello stage Poi cos'è? Completo tutte quante le sfide Ok qui fare le combo 50% dei punti salute Solo con il rango S Vabbè si capisce ragazzi qui massimo due tribù di Yo-Kai Insomma vi fate un'idea di quello che il gioco richiede da voi E si può farmare appunto più facilmente Grazie a... finendo appunto le missioni Grazie alle missioni Ma essendo un evento fionda Farmare con il minigioco della fionda È molto molto difficile Comunque sia Andiamo a vedere Che cosa ci riserva il primo livello Poi andremo a vedere anche le ricompense Che da regali che ci sono Che si possono comprare Con i punti Yo-Kai Che però possono essere sbloccati Solo finendo un tot di numeri Di livelli con la fionda Poi andremo a vedere anche quanti ne servono E le missioni Gli stage secreti Insomma c'è un po' di... Ci sono un po' di cose da fare Allora Io stavo usando questa squadra Perché nell'evento con Il torneo Budokai Questa squadra era eccezionale Vincevo praticamente Tutte le sfide Non so quanti torne ho vinto 120, 130 Insomma Ho giocato un bel po' Ho farmato Un bel po' di punti E vediamo un attimino Eh non ce l'avevo neanche fatta A caricare l'Energymax Comunque sia appunto Usavo Il ragno Il ragno bufalo Perché Era molto facile con lui attaccare Aveva un bonus E facevo 30-40 mila di danno Solamente con l'Energymax Mentre se invece Lo potenziavo Con il boost Di Platinus Arrivavo tipo A 130 Il massimo Che sono arrivato Con l'Energymax Senza potenziarlo Quindi è tantissima roba Senza che io Aumentassi il livello Di Energymax Allora Abbiamo Chi è un gorilla? Sì Comasan Dimmi come si chiama Allora Lui dovrebbe essere Moikangoro Boh Andiamo ad affrontarlo La scorsa volta Riuscì a fare 25 livelli Della Sirena Però era Molto Molto difficile È stato Allora Sì Non mi serve nulla Comasan Ti ringrazio però Ah Questo è dritto Ok Allora facciamo così Prendo una carta Per metterlo dritto Perfetto Sì sto usando Dei fogli di carta Perché la carta In genere Non reagisce al tocco Non fa reazione Con il touch screen Però alcuni tipi di carta A quanto pare Sì Non lo so Per quale ragione Dato che Dovrebbero essere Le scosse elettriche Che abbiamo Nel corpo L'elettricità Che abbiamo nel corpo A permetterci Di toccare Il touch screen Ma La tecnologia Avanza sempre E ho il bonus Attenzione Quindi ho in squadra Uno yokai Che mi dà bonus Ah Non lo sapevo Ho visto Chi avevo Chi erano Gli yokai Dell'evento Ma Boh Quindi se Riusciamo a vincere 40 volte Il minigame Della fionda Sconfiggendo appunto Goro Potremmo sbloccare Queste ricompense Ah Abbiamo Shishiguro E beh Shishiguro Mi interesserebbe È un SS E poi Mica Kotika Chi è questo Vasco Degama Oddio Vasco Degama Ma no Ma cosa No Ho capito Ho capito Va bene Va bene Qui ovviamente Poi abbiamo Anche Questo qui Chi è Magellano Cosa sarà Mai Magellano Ah Attenzione Abbiamo Little Commander Y Y Caxe Little Commander Quindi Little Commander Z Risvegliato Poi abbiamo Anche delle Ricompense Se aiutiamo I nostri Amici Certo Ci danno Un po' Di punti Quando Attacchiamo I loro Boss Nella fionda E qui abbiamo Appunto Per potenziarci Il tiro I punti Che riceviamo E la potenza Di attacco Io ovviamente Appena ho Un po' Di punti Riscatto Tutto Perché ragazzi È Assolutamente Necessario Potenziarsi i punti Yokai Se non altro Poi Cosa bisogna fare E poi Qui possiamo Vedere anche Le missioni Che servono Per l'evento Quindi Le missioni Per l'evento Sono Battere Il primo livello Battere Il primo livello Segreto Che adesso Vi dico Anche Come si fa Battere Cinque volte Il livello Del Moikan Goro Battere Il secondo Stage Segreto Battere Il boss Finale Battere Per 20 Volte Lì L'amichetto Goro E giocare L'attacco Al punteggio L'attacco Al punteggio Semplicemente Basta andare qui Sul trofeo Premi sul trofeo Qui Vedete qui Ecco E c'è il master chef Bene Adesso vediamo Come aprire Gli stage Segreti Per aprire Il primo stage Segreto Bisogna Completare Il livello 26 Totalizzando Almeno 30 combo Mentre Per aprire Il secondo Stage Segreto Bisogna Sconfiggere Il livello 45 Con In squadra Vediamo Però dove Prendere Bacchera Perché ci sono Molti Stage Nel quale Prenderlo Gli stage Sono Il 2 Il 5 Il 9 12 16 19 23 23 25 33 36 38 40 E anche 44 Bene Prima di concludere Le slottate Signori Ne faremo Ben 4 Oggi Un bel 20.000 punti E qui abbiamo Quella a pagamento Che Ce l'ho Qualche yen No Non ce li ho più Gli yen Da spendere Qui Andiamo a fare Questa qui Dai Ah vabbè Non c'è altro Si Cerchiamo di trovare Qualche yokai Di questo evento Dai Facciamone 4 In genere Ne faccio 2 Massimo 3 Neanche Mi ha fatto vedere Whisper Facciamo tutto Quanto in una volta Sola Abbiamo il Triple S Wey Ma è di questo Oh mio Dio Si Come cavolo Si chiama King Dead King Dead F King Dead F Non lo so Il kanji E lì Manco ci provo A leggerlo Che se no Mi ceco Ah King Dead Fish E certo Perché è un pesce Bello Questo quindi è dell'evento Che 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 cos'era Ah Spaventa tutti Ok In qualche modo Proverò a metterlo In squadra Non lo so Vai Proviamo Facciamo un'altra Insomma Già con la prima Io starei a posto Non ho più bisogno Whisper Tu mi stai viziando Allora Ah ok Solo Solo un oro Non mi vizi A tutti gli yokai Che già avevo Va bene Ci sta Ci sta Oggi mi va bene Perché ho farmato Tantissimi punti Ho farmato Quindi sono contento Di come sta andando Ok Queremo a masaka Questo è impossibile Non è vero invece Tutto è possibile Questo è Mataro Shining Boy M Mataro Dai si vede Che è Mataro Su Shining Boy M Quindi anche lui Dell'evento Quindi darà un bonus Anche lui Contro il boss Credo Contro il boss Quello più difficile Questa era la terza Quindi facciamoci Anche la quarta Vai Ah qui niente Stavolta Va bene Però insomma Due yokai Importanti Ho trovato E Ah Rango S Però ragazzi Comunque sia Ah questo è di Shadowside Com'è Bunny Trap Ah Bunny Trap Sì è un coniglio Effettivamente Ok Però Usagi Allora Più bello Usa Usu Bene Questo è quanto C'era da sapere Per l'evento Io spero che Vi sia l'aiuto Come sempre Vi ringrazio Per aver seguito il video Vi ricordo che in descrizione C'è il link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye Eeeh Grazie.